Organizzata dal sodalizio abruzzese Molesano del Veneto e dall'Associazione Culturale Gran Sasso Maiella, si terrà sabato 14 novembre alle 16.30 a Palazzo Zacco, circolo unificato dell'esercito in Prato della Valle, la conferenza dal titolo La Sindone, novità e conferme. La conferenza, patrocinata dal Comune di Padova, si basa sulle ultime novità relative alla sindone, emersi con l'ostensione recente di Torino. Saranno presentati i principali risultati ottenuti da diversi docenti dell'Università di Padova in collaborazione con le Università di Parma, Bologna, Modena, Udine e con il Politecnico di Bari, finanziati da un progetto di ricerca intitolato Analisi Multidisciplinare Applicata alla Sindone di Torino, studio dell'immagine corporea di possibili inquinamenti ambientali e di microparticelle caratterizzanti il tessuto di lino. Per quanto riguarda la doppia immagine corporea impressa nella reliquia più importante della cristianità, le analisi eseguite hanno dimostrato l'attuale impossibilità tecnico-scientifica a riprodurre tale immagine, ma l'ipotesi più attentibile è connessa ad un'emissione di energia elettrica che ha prodotto il cosiddetto effetto corona. Per quanto concerne la datazione della sindone, studi statistici hanno dimostrato con metodi robusti che la datazione al carbonio 14, eseguita nel 1988, non è statisticamente attendibile. Interverranno all'incontro Giulio Fanti del Dipartimento Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e responsabile di un progetto di Ateneo sulla Sindone, Gianni Barcaccia del Dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova e Matteo Bevilacqua dell'Istituto di Anatomia dell'Università di Padova. Sarà presente il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Mariella Mazzetto. L'ingresso sarà libero fino all'esaurimento dei posti.